non mi dire niente non mi dire niente perché fa così no no perché fa così non lo sapevi non si sa che un uomo quando si sposa perde la propria indipendenza perché ti sei sposato perché ti sei sposato però io te lo voglio dire stai permettendo a tua moglie di fare cose che nessuna donna si dovrebbe mai permettere a fare io lo capisco va bene che non ti fa andare più a giocare a calcetto va bene che non ti fa vedere gli amici ma non che pure per venire a lavorare ti devi inventare la scusa allora si è saputo lo sanno tutti lo sanno tutti la faccio più non ce faccio più abbiamo toccato il fondo oggi per venire a lavorare l'ho dovuto inventare che andavo dall'amante perché ormai il rapporto è saltato e mi ha detto pure non ti credo non ti credo tu stai andando in ufficio alla fine ho giurato spergiurato e tu ti giuro c'è non da fare l'amore con un'altra un po come ha creduto quindi sbrigiamoci c'ho due tre minuti lei lo sa quanto tempo ci metto io due tre minuti vabbè compresi i preliminari allora che iniziano quando citofono allora senti qua hanno telefonato e hanno detto ma tu a me mi vuoi prendere in giro perché ti ho detto mille volte che prima di iniziare a lavorare tu ti devi togliere il casco tu hai bisogno che il tuo cervello si espanda il mio si deve comprimere il tuo si deve spandere calma calma io volevo recuperare tempo perché hanno telefonato e volevo recuperare tempo solo per quello altrimenti mi facevo trovare direttamente senza casco allora senti qua hanno telefonato hanno detto che per quanto riguarda la parte iniziale può iniziare inizia per quanto riguarda la parte finale bisogna finire noi dovremmo fare una che cosa è questa porcata eh che cosa è questa porcata eh sei sordo no che cosa è questa porcata eh dimmi che cosa è questa porcata sicilia lo so calabria lo so ponte non vuoi fare questo ponte non lo vuoi fare se non lo vuoi fare me lo dici me lo dici che io scrivo a berlusconi e ce ne andiamo tutti a casa ma non vuoi capire che il ponte di messina è un'opera importante soprattutto per dimostrare ai milanesi che noi siciliani siamo cambiati e le cose per bene le sappiamo fare ecco perché ti avevo chiesto nessun favoritismo non ho fatto nessun favoritismo no allora che cos'è questa porcata non mi viene la parola te la faccio venire io la parola cioè sul ponte ci hai messo l'autogrill ma lo vedi che sei un ignorante non lo sai che da quando siamo entrati in europa dobbiamo mantenere il 3 per cento nel patto di stabilità dimmi la verità mio cugino ha saputo che ho vinto l'appalto ma che su un posto di lavoro che io devo dire valentino mettiti nei miei panni a me di tuo cugino non mi interessa niente valentino mettiti nei miei panni mio cugino si è compiato la bmw ancora la deve pagare non mi interessa deve pagare il mutuo della casa non mi interessa la moglie ha voluto la smart la felice di visone la casa mare il gommone il canotto la pentola a pressione i cavalli a vapore non mi interessa solo il sostituto di disoccupazione piglia mio cugino non mi interessa se lo fa aumentare ma già più 8 milioni al mese quanto deve prendere problemi suoi se ha bisogno di soldi fa quello che ho fatto onestamente io per una vita se ne va a rubare non me lo tocca ormai hai buttato la maschera ho capito chi sei ora ti faccio vedere io ma non che mio cugino sarebbe a rubare però lo chiamo subito gli do la delusione gli dico pia la bmw e la portino al concessionario ora ti faccio vedere io appena mi rispondo gli dico pia la bmw e la portino al concessionario e non mi deve fermare nessuno mi deve fermare ma perché sono così buono perché perché why va bene va bene grazie valentino mi hai commosso grazie va bene te lo metto l'autogrill va bene che te lo metto però qua non te lo posso mettere te lo devo mettere qua sotto no 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 deve stare qua perché lui la mattina accompagna i bambini a scuola non è che può fare il giro da villa san giovanni quando io devo venire a cociare l'autogrill non mi interessa dei bambini non ti interessa dei bambini ora lo chiamo gli dico pia i bambini l'infini della bmw e le portino al concessionario le faccio vedere io che lo metto a ti va bene te lo metto l'autogrill va bene e te lo metto pure dove dici tu grazie però sappilo per colpa tua devo tagliare le palmenane per colpa tua avanti ma no per colpa mia ti devi rendere conto che stai esagerando una due va bene ma tu sei mettendo ettari e ettari di palmenane dobbiamo integrare dobbiamo integrare il progetto col progetto più grande che la natura no tu sei integrando il mediterraneo col progetto più piccolo che la palmanana ma dimmi la verità ma che più un euro a palmanana non dire queste porcate da prima repubblica hai capito perché noi siciliani siamo cambiati soprattutto da quando ci hanno spiegato che una cosa pubblica una cosa di tutti certe cose non le facciamo più e i milanesi che ci hanno sempre criticato lo devono capire che le nuove generazioni siamo diversi perché se noi siamo cambiati anche loro possono cambiare tutto il mondo può cambiare vergogna vergogna c'è tu a me mi hai fatto tre ore di manfrina per due soldi di autogrill che non ha neanche spizzico e tu vieni a fare di queste porcate fai schifo valentino fai schifo sei un essere repellente lo vedi se ti spunto non ti piglio perché sei idro repellente che cosa è questa porcata di qua e soprattutto perché non me l'hai detto te l'ho detto ah me l'hai detto si e quando me l'hai detto ieri ti devi togliere questo vizio che hai di parlare con me quando io non ci sono oh non puoi pretendere che ogni volta che ti devo dire qualche cosa ti devo pure venire a cercare ma come pazzo è il dialogo prevede una che parla e uno che ascolta ma contemporaneamente non è che posso venire domani e sentire quello che hai detto ieri oggi mi chiedi questo nell'amicizia domani che cosa mi chiederai il sangue io te lo darò perché al contrario tuo io sono un amico e un amico lo capisce quando deve essere zitto c'hai il cervello come una particella di sodio che si aggira in acqua letra te lo dico io cosa sono queste due porcate che hai messo sul ponte te lo dico io che sei riuscito a fare due torcate in una era un'occasione è la sventita delle portate c'è la prima porcata che hai messo sul ponte è l'asilo nido ma la cosa più schifosa è che hai chiamato l'asilo nido la palma nana dimmi subito perché hai costruito questo asilo nido altrimenti dica a tutti che c'è villatemi che insegna religione mia figlia il sangue del mio sangue c'ha otto anni mi ha detto papà quando sono grande voglio insegnare con i tempi che corrono in italia con la scuola se non gliela faccio io la scuola questa quando deve insegnare mai non mi interessa niente di tua figlia non ti interessa di mia figlia completamente non me ne è mai fregato niente questo vuoi dire anzi ti dirò di più che quando cadeva per terra non era perché aveva i piedi tondi ero io che le facevo lo sgambetto questo vuoi dire anni e anni di ortopedia l'ortopedica era mio zio pure questo vuoi che faccio allora che cosa vuoi che faccio che cosa vuoi che faccio che la chiamo la chiamo le dico figlia mia il ponte è una cosa pubblica di tutti tranne che mia questo vuoi che faccio una bambina otto anni questa delusione gli vuoi dare tu che avrai il rimorso per tutta la vita questo vuoi che lo sto facendo ah no è inutile che mi guardi così perché lo sto facendo la chiamo le dico prendi l'asilo nido lo metti nella bmw e lo porti al concessionario te lo sto dicendo e non mi devi fermare né tu né nessun altro ti preoccupare senza rimorsi devi vivere sei tranquillo sto chiamando pronto tesoro e ciao papà sono sei come papà chi io sono sentite solo ti volevo dire una cosa te lo ricordi quell'asilo nido che ti avevo promesso sul ponte amore eh te lo ricordi non te lo posso mettere più gioia dai non piangere in questa maniera finiscila che mi spezzi il cuore tesoro non piangere così che mi spezzi il cuore a me e alle persone che mi stanno accanto smettila che cos'è questo rumore non ti sbatterò la testa al muro sai finiscila e non dire queste porcate perché tu da grande la prostituta non la farai hai capito fai schifo una bambina a otto anni che cosa vuoi che faccia che la richiama e le dico figlia mia stavo scherzando a otto anni una bambina non si può questo telefono è senza credito da due anni io gliel'ho detto se lei non l'ha sentito che ci posso fare ma vergognati vergognati ti ho fatto il trappolone e ci sei cascato non hai resistito proprio come il topo davanti al formaggio come il gatto davanti ai croccantini tieni qua te lo metto l'asilo nido per farti capire che io sono diverso da te no per fare capire ai milanesi che noi siciliani siamo diversi da quello che eravamo prima hai capito allora stai tutto il santo giorno a parlare di palmenane milanesi palmenane milanesi almeno per oggi evitami i milanesi ma io te lo dico pure per te dillo per me basta con i milanesi ma ci hanno criticato se basta 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 non ne parliamo andiamo a cose più importanti andiamo a cose più importanti dove mi hai sistemato tutte quelle cose che ti avevo chiesto io qua questa macchia qua è tua tu mi hai ammazzato 280 villette tutte qua e dove te le devo mettere? ma te le ho detto sparagile per il ponte le ho vendute di stamare io le ville e le palmenane dove le hai mette? vai se buce palmenane mettile una sul pallaccio e fai una palma vera madame tu arriverai a farti criticare dei milanesi non esistono i milanesi esistono i milanesi? si sono estinti insieme ai brontosauri no si ne sono rimasti tre questi tre non scendono e se scendono? metto una torretta a reggio Calabria uno col fucile tre pallottole e le eliminiamo continua anzi siccome sono precisi capace che scendano in fila e con una pallotta la sola risparmiamo pure continua continua così non ne posso più non ne posso tutto il santo giorno palmenane e milanesi milanesi e palmenane palmenane e milanesi per me i miei sogni milanesi sono aggrappati alle palmenane già li sento che cantano mia bella palmenane tu stai trascurando un elemento fondamentale che a noi del ponte non ci interessa niente perché non serve a noi se lo stiamo facendo è per una questione di immagine per dimostrare ai milanesi tu non hai capito che il ponte invece è fondamentale per noi siciliani perché? perché appena faranno il ponte in Sicilia disoccupati non ce ne saranno più e perché? perché vedono il ponte e se ne vanno è così il disoccupato è così per carattere appena vedo un ponte se ne va se non le sai queste cose fai fare a me lo dice proprio il teorema del disoccupato dato un disoccupato costruitegli un ponte sul catetere dell'ipotenusa e lui se ne va il corpo di un disoccupato riceve una spinta dal basso verso l'alto pari alla lunghezza del ponte se non le sai queste cose fai fare a me quando facevamo pontologia tu non venivi mai ma poi dico io a domandare ma come mai stiamo facendo due corsie? non lo vedi che c'è due corsie? perché non domandi? ma come mai le stiamo facendo? è perché non veniva la lezione di pontologia capito? tu facevi tutto il giorno turistologia in giro turistologia bella questa cosa di pontologia rimarrà per sempre bella complimenti poi l'ha tagliato poi l'ha tagliato dimmi ci sono due corsie a dire come mai stiamo facendo due corsie? ma mai che non te lo domandi? che ne so sembrava che si portavano così quest'anno quest'anno si porta la doppia corsia l'anno prossimo la doppia corsia col risvolto a zampalare ma voglio andare avanti per cortesia questa corsia serve proprio per i disoccupati i disoccupati vedono la corsia loro dedicata si incamminano e pian pianino trotterellando se ne vanno questa corsia di qua invece serve per i turisti i turisti vengono scendono in Sicilia stanno un poco poi non hanno niente da fare diventano disoccupati e risalgono dall'arciolare ho capito ho capito è un lavaggio turisti disoccupati disoccupati turisti è un lavaggio un riciclo un riciclaggio un riciclaggio il ponte serve per il riciclaggio andiamo a cosa più importante abbiamo capito che all'inizio i soldi ce li danno se Dio vuole no vuole vuole ha detto che ce li dà ce li vuole ha detto tante cose vabbè speriamo che questo poi tu hai avuto questa bella pensata di fare la campata unica oh ma io scherzavo la campata unica può essere mai la campata unica non ci arrivo dall'altra parte io scherzavo ma che stai dicendo vero? quindi tu scherzavi? certo che scherzavo e allora ti comunico che lo scherzo è riuscito ci hanno creduto veramente ora come fai non mi interessa però hanno detto che devi arrivare dall'alciolato senza un pilone senza metti di piedi nell'acqua no 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 io non faccio niente non faccio niente io dall'altra parte non ci arrivo e buonanotte problemi cuori problemi miei problemi miei e che faccio? problemi miei ma che faccio? mi tiro la calabria tanto in calabria ci sono tutte cose sott'olio scivola meglio ma lo vedi che quando vuoi le idee ce le hai? lo vedi? ah questa cervellona comunque come fai fai non mi interessa ma la cosa importante che ti volevo dire è che io ho rifatto i calcoli e ho capito che qua con questa campata unica ci vogliono un sacco di soldi certo qua caro mio bisogna campare la campata capito? cioè qua ci vogliono soldi che ingiano proprio a palate anche a più palate a palatoni proprio a palatoni poi tagliamo pure questa lì quindi tu cosa sei pensato per far entrare più soldi nel ponte? ma non è che ci ho pensato assai vabbè quei tre minuti di carica che hai che hai pensato? il casello casello autostradale si valendo il casello è un classico eh va su tutto va pure sulla palermo messina che non c'è l'autosciata e tu come avresti pensato di metterlo? ma niente io metterei un casello all'entrata e li facciamo pagare e un casello all'uscita e li facciamo pagare tanto non possono tornare indietro no tornare indietro non tornano però però caro mio sei soggetto a critica certo poi la gente arriva e ti dice il solito ponte, il solito casello certo ci vorrebbero degli incentivi degli incentivi tipo da mezzanotte alle sei la donna non paga e l'uomo paga il 50% per il resto della giornata con la drink card il turista entra, consuma liberamente alla fine quando esce a poco, fia la mazzoleano non viene il turista no viene viene, l'ho seguito fino a ieri Giovanni è turista non viene il turista non viene abbagonato che cosa deve venire a vedere il turista? il ponte è più lungo del mondo non si vede più il ponte certo con tutte queste palmenate ma la foresta mazzone ma perché ce l'hai con le palmenane il turista non viene perché il turista per definizione si deve fermare se no non è turista hai capito? siccome sul ponte non c'è niente che lui si può fermare il turista non vede niente e passa e diventa passeggero capito? se non c'è la lezione di turistologia fai come ti dico io il turista deve avere un motivo per fermarsi se no non è turista capito? per definizione turista se non le sai le cose fai fare a me fai fare a me se no sarebbe turiva tu l'hai visto mai un turiva? non ho fatto in tempo quante volte mi dicevano guarda un turiva un turiva dove? e già sono andato il turista è così quindi ci vuole un'attrazione una cosa per cui il turista si ferma ci vuole un'attrazione un'attrazione che si ferma un lunapark no ma l'unapark no ma poi si è impresti l'unapark e c'è mio zio con la giocca non so ma non è possibile te l'ho detto mille volte allora io ti consiglio guarda spendi un po' di più e vai sul classico ti fai qualcosa che ti dura nel tempo e che cosa? un monumento si chi ci mette? un monumento ma quanto hanno speso a Roma per il Colosseo? però se lo sono trovate e che ci mette? il Colosseo sul ponte? il Colosseo non mi piace poi è tenuto male ci manca il tetto le finestre bucate la popola solita incuria al romano poi quando si dice l'incuria al romano ma poi però se tu hai una cosina da riscrutturare qua allora si che si può non c'è niente una casetta antica non c'è tutta cosa moderna una casetta piccolina una casetta vecchia un soborgo antico un villaggio di pastorizia una casa dove ha dormito Caribaldi cioè Caribaldi secondo te sul ponte ah no ah no questo Caribaldi ha dormito dovunque arrivato sul ponte aveva l'insonnia è tirato dritto minchia a Parigi ma non c'è un cazzo ma non c'è un cazzo c'è dovunque chi è dormito Caribaldi chi è dormito Caribaldi qua Caribaldi va a premura ma non c'è io non lo so ma che c'è ma come chi è io ma perché ma perché buce ma perché buce ma perché secondo te i tempi di Caribaldi il ponte ai tempi di Caribaldi non c'era ehi ma già se ne parlava però lo so lo so allora a mari estremi tagliamo la testa al toro andiamo a prendere un tempio da agrigento tanto quelli neanche se ne accorgono senti a me lo smontiamo lo carichiamo nella tua panna e lo veniamo a rimontare qua che dico gli diciamo è riaffiorato durante gli scapi ma da dove è riaffiorato? è dal mare cioè dal mare esce il tempio e io attacchiamo due alghe o due cozze non è troppo bene ma che dici il tempio con le cozze? anche chi lo vede dal mare vede il mare il tempio con le cozze la montagna vede il tempio mare e monti non glielo puoi mettere ma gli è pieno non glielo puoi mettere all'ortolare non glielo puoi mettere all'ortolare non glielo puoi mettere ma perché non ti limiti a dire le cose che sappiamo? non glielo puoi mettere non fa non glielo puoi mettere perché tu lo dico io perché appena ci metti il po' appena ci metti il tempio appena ci metti il tempio sul ponte il ponte crolla il tempio? il tempio appena ci metti il tempio sul ponte il ponte crolla e il tempio? e il tempio rimane sospeso sta mi sapevo che sia appena ci non è come dici tu e capisci? appena ci metti il tempio ti dico per l'ennesima volta il ponte crolla c'è tempio è pesante non è che è pesante tante volte lo dicono non guidato dopo aver visto il tempio che porta a San Valenzo ma che c'è non è pesante il tempio ho visto un tempio quando ero piccolo dormillo due giorni ma che c'è ma non è per quello non sai meglio di me appena ci metti il tempio il ponte prolla per altri motivi perché tu ci metti il tempio tutti gli agrigentini che passano vedono il tempio e per istinto ci costruiscono di sopra, intorno e lo sai com'è hai ragione la grigentina è così, è cosciuttore a Milano criticano, a grigento cosciuiscono soprattutto la notte ci vedono meglio, andiamo a cose più importanti allora non lo so, domani telefoniamo a Sgarbi vediamo se gli avanzano a Berisco tanto uno l'ha pazzata in Africa, non c'è da mettere qua che fa una gelata quello fa il rappresentante dell'Obelisca dai, fammelo andare ma il telefono acceso me lo sono dimenticato vedi chi è che me ne deve andare pronto? buonasera, sì, io sono Picone, mi dica cosa? senta, senta, non la capisco bene mi chiami fra cinque minuti perché siamo messi ma chi è? non la capisco bene mi chiami fra cinque minuti non la capisci mi chiami fra cinque minuti chi è? non si capisce niente è come se avesse un fazzoletto davanti alla cornetta oh eh, oh senta, mi chiami... ah, lei ha un fazzoletto davanti alla cornetta? e perché? mi scusi per non farsi riconoscere è allora giusto allora giusto lo può tenere sì mi dica che cosa le serviva? ma da mettere dove? mi scusi sul ponte? no signore mio non è... mi scusi se le rito in faccia ma non è possibile perché non ce la facciamo no, guardi veramente anche volendo non ce la facciamo che cos'è? guardi anche volendo una pizzeria sul ponte no, 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 no siamo pieni siamo sono rimasti posti in piena esatto non ce la facciamo proprio veramente il prossimo quando facciamo Palermo Gino ve la teneremo in considerazione non capisce bene che non è contro di lei io lo so no, no ma non è lei non è contro... noi sapendo come andava a fin... lo sappiamo che il ponte è una cosa pubblica di tutti ma noi sapendo come andava a finire abbiamo fatto un turno quindi lei evidentemente ha perso il turno ecco no, guardi non le sto dicendo che lei non ha il diritto guardi non è lei che mi deve spiegare qual è la definizione di cosa pubblica ha capito? poi con questo tono non mi... lo so benissimo che una cosa pubblica non è soltanto cosa mia cosa sua ma cosa nostra questa pizzeria gliela metto vista mare va bene? grazie di aver scelto noi ora io ho qua l'autogrill a mio cugino dove io lo costruisco ma perché la mette qua la pizzeria che c'è la picchia che devi fare il parcheggio devi fare questa pista per penitenziario fai fare a me ma è come vuoi io me ne devo andare no, no, no aspetta un attimo dai, veloce che mia moglie mi aspetta non aspetta solo te dunque ti devo dire una cosa però tu mi devi promettere che non ti devi arrabbiare ma perché mi dovrei arrabbiare? ho fissato arrabbiato mai ma tra noi non abbiamo mai litigato non abbiamo mai litigato allora siccome io vorrei mettiamo un rapporto sereno siccome io vorrei fare bella figura con i milanesi di nuovo i milanesi mi sei riprendendo ma con tanti popoli fondamentali per l'Italia proprio i milanesi chi c'è di così fondamentale? i torinesi perché che hanno fatto? i grissi ma è vero allora a dove ho pensato? io per fare bella figura con i milanesi a Villa San Giovanni San Giovanni ci metterei due sensori che riconoscono la macchina del milanese e come la riconosco? c'è la nebbia intorno alla macchina del milanese appena la macchina del milanese passa i sensori riconoscono la macchina riconoscono la macchina ed azionano azionano delle fontane che io voglio costruire sul ponte in modo tale che il milanese passando tra palmenane e fontane dice ma guarda sti siciliani allora vediamo se ho capito bene arriva la macchina del milanese a Villa San Giovanni il sensore la riconosce manda l'impulso alle fontane che sono dislocate lungo tutto il ponte e mentre la macchina del milanese passa comincia questo zampillio di acqua che accompagna la macchina fino all'ingresso a Messina esatto bello poi magari arrivato a Messina ci mettiamo un cartello con scritto hai visto l'acqua? dimenticatela ma chi è niente? chi è niente? va avanti ma che fai? scusate non c'entrate niente ti ho detto che quando siamo fuori dalla Sicilia tu non devi parlare della siccità ma chi è cinto? no scusate non c'entrate niente voi veramente è una cosa già di noi potete uscire un attimo? no perché noi perché noi già in questo sketch la Sicilia la massacriamo ma perché ci diciamo che ma mafia rubiamo ma lo facciamo noi autoreonia per migliorarci però non mi fa che si parli della mancanza d'acqua la gente che ti sente che cosa deve pensare? che in Sicilia i politici ci hanno lasciato pure senza acqua? e perché? come ci hanno lasciato? queste cose non si dicono perché è vergogna e ci rimane un'ultima cosa la dignità e chi ne ha vota mai? lo so inventatela parla di quello che vuoi e poi tu lo sai il brevetto della siccità è nostro l'abbiamo inventato noi abbiamo capito noi che c'è da guadagnare se tu ne parli quando siamo fuori dalla Sicilia loro sono italiani e lo sai come sono gli italiani lo sai come sono gli italiani nei confronti di uno dei siciliani che prima ci criticano e poi ci copiano che vuoi lasciare l'Italia a secco? vuoi lasciare? gli italiani sono così prima ci criticano e poi ci copiano gli italiani ci copiano gli italiani ci copiano aggiungi una cosa nuova ci copiano è pieno pieno di italiani qua dieci io l'avevo capito perché da due ore che ci ridono in faccia ci penso io tu coprimi le spa abbiamo controllato l'acqua c'è c'è stato un guasto che è durato due secoli vabbè però trovare un'idraulica è un'impresa comunque ora l'acqua c'è c'è proprio piagliosa sgorga copiosa la qualca a Venezia è colpa nostra per dire ma perché qualsiasi cosa il siciliano subito dice è colpa mia per carattere ma candalo sto carattere che c'hai 30 anni tu hai detto che della siccità non è dove dobbiamo parlare sono problemi nostri che ci risolviamo per i fatti nostri come si dice i panni sporci ci rimettiamo di nuovo picchiacqua non ce n'è eccezionale eccezionale questo ponte è venuto meraviglioso ma dimmi una cosa ma così secondo te a occhi e croce quanti abitanti fa il ponte 20-25 mila abitanti io ce li metto eccezionale ormai il ponte come prodotto interno l'oltre ha superato la California siamo la quarta potenza industriale del mondo abbiamo davanti i giapponesi appena si risalgono e le passiamo eccezionale ma poi abbiamo tutto strutture, infrastrutture dei ponti a castello eccezionale purtroppo abbiamo queste due palle al piede la Sicilia e l'Italia che noi produciamo ricchezza e il loro campano sopra di noi sempre così è stato per un popolo che produce gli altri ci devono mangiare di sopra sempre così ma lascia stare chi nasce sul ponte è diverso non c'entriamo niente poi le tasse sono le nostre ce le dovremmo tenere noi questa è la verità ce le dovremmo andare indipendenti ma finisci con questa cretinata dell'indipendenza ci vorrebbe la secessione del ponte ma finisci con questa secessione che c'è ci basta che lo dice ci manca poco ci manca la capitale del ponte e poi ce ne andiamo indipendenti le faccio vedere io finisci con questa cretinata Brooklyn non mi piace e poi si è sentito dire sei poi appiccicoso come nome ci vorrebbe un nome proprio sinonimo di indipendenza che tu appena lo senti dici ma quale è la capitale del ponte dice questa mia allora sono indipendente io ce l'ho un nome ma come c'hai il nome non mi dici niente si però è cretino come nome cioè non è che è cretino il nome è cretino come capitale indipendente fai fare a me è cretino dai fai fare a me capitale del ponte indipendente pontida bravo è cretino il punto giusto magari qualcuno ci crede bravo va bene allora facciamo così tagliamo il ponte qua 50 metri prima che toccatena con la Sicilia 50 metri prima che toccatena con la Calarda e ce ne andiamo per i fatti nostri il ponte indipendente come simbolo di un pesce a spada ma che taglia ma che taglia abbiamo fatto tanto per farlo addirittura lo tagli ma come perché la gente che deve passare come fa a passare il traghetto il rischio il rischio il rischio il rischio controllo il rischio Grazie a tutti.